All'indomani degli scontri della settimana scorsa fra il popolo della Movida e la polizia municipale con lancio di molotov, minacce e aggressioni, il sindaco Orlando aveva annunciato la linea dura e del resto lo stesso comandante dei vigili aveva dichiarato di aver portato dai PM i verbali sull'accaduto. Intanto però alla Vuciria per il secondo weekend consecutivo è andata in scena la stessa replica. Sia venerdì sera che sabato sera infatti i frequentatori dei locali e dei pub di piazza Garrafello hanno forzato le recinzioni poste dal comune a chiusura della piazza dopo il crollo del 5 febbraio, abbattendo nuovamente due dei muretti che i tecnici dell'amministrazione avevano innalzato proprio per impedire l'accesso. Raso al suolo il muro di via Materassai, ridotto a pochi mattoni invece quello su via Garrafello. Ancora una volta ci sono state tensioni con gli agenti della polizia municipale che avevano potenziato i presidi lungo le vie che confluiscono alla piazza. Il crollo della loggia dei catalani continua ad essere al centro di una violenta polemica tra residenti e frequentatori del centro storico e l'amministrazione, accusata di non aver fatto il necessario per prevenire o fronteggiare il crescente degrado in cui versano talvolta in modo estremo monumenti e palazzi. Palazzi che però spesso sono di proprietari privati, se non quando proprietà indivise, il che complica di molto le operazioni per la manutenzione o il ripristino. Sarebbero oltre 1.600 del resto i proprietari indagati per rischio crolli a Palermo, tra questi anche esponenti della cura e funzionari del comune. Quanto alla vuciria, mentre i tecnici sono alle prese con la ricostruzione dei muretti abbattuti nel weekend, i lavori per la loggia dei catalani rischiano di essere più lunghi del previsto. Per mercoledì è in programma un nuovo sopralluogo, ma perché la piazza venga riaperta, almeno in parte, e si possano mettere in sicurezza e rimuovere le macerie, bisognerà che i tecnici assicurino gli altri due palazzi, quelli adiacenti alla loda.